Cancellotti, gara di andata con la Feralpi Salò, si comincia a fare ora seriamente, il Pescara si gioca alla prima fetta di B. Sì, è una partita importante, siamo riusciti a superare le partite precedenti, erano partite toste, abbiamo dimostrato un carattere, alcune cose da migliorare, ci stiamo lavorando, siamo determinati per affrontare questa gara che vale l'intera stagione. Il tecnico Zauri sui gol subiti in conferenza stampa ha detto, io so che i miei giocatori sono molto forti, quindi devo lavorare solo dal punto di vista mentale. Sì, assolutamente, il mister sa che sta allenando una squadra di valore, ce lo ricorda tutti i giorni, siamo comunque coscienti del fatto che noi in campo bisogna avere un po' più di malizia e cattiveria e ci impegniamo al massimo tutti i giorni per far sì che questo avvenga e per limitare al massimo alcune disattenzioni. Nell'arco dei 180 minuti si gioca la qualificazione, quanto è importante la partita di domani? Sicuramente è molto importante, lascia sia in positivo che in negativo il fatto di avere due scontri, che si può sia recuperare sia perdere qualcosa, quindi bisognerà avere massima concentrazione sia nella prima che nella seconda partita di ritorno e la concentrazione è la cattiveria giusta per tutti i 180 minuti.